Buongiorno ragazzi, quando si dice tutto il mondo e paese hanno arrestato un sindaco perché cosa faceva? Aveva il fratello che vendeva dossi e guardate cosa faceva, cosa ha messo. Secondo me a questo punto il cugino vendeva busti per mal di schiena. Come potete vedere ne aveva messi un po' troppi di dossi, no? Ma si può, ma si può. Ragazzi, la realtà certe volte supera la fantasia. Pensate di trovarvi la strada così.